Dopo il congresso fondativo nazionale di Rimini, anche in Abruzzo si sta operando per costruire il nuovo partito della sinistra italiana, che perde però due pezzi da 90 come il deputato Gianni Melilla e il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo Mario Mazzocca. Da qui a due mesi discussione e iscrizioni aperte per arrivare al congresso regionale. Nel frattempo, nella costruzione di questo nuovo soggetto della sinistra che guarda con interesse i movimenti creatisi a seguito della scissione nel Partito Democratico si aggregano personaggi importanti in ambito regionale come il segretario della CGL Sandro Del Fattore e la consigliera di parità Alessandra Genco. Il partito resta all'opposizione del governo Gentiloni e si propone come nuovo riferimento della sinistra alternativa al PD. Vogliamo scrivere una sinistra nuova. Tutto quello che sarà il percorso dei prossimi due mesi sarà proprio l'organizzazione e il lancio del partito su tutto il territorio regionale, quindi in tutte le province, sia all'interno delle istituzioni ma sia nel rapporto con i movimenti e con tutte le sinistre che oggi si muovono sul territorio, quindi anche con i fuoriusciti del Partito Democratico e con tutte le formazioni che oggi esistono a sinistra. Il rapporto con la regione Abruzzo sarà tema di discussione del congresso regionale che si svolgerà da qui a circa un mese e mezzo, poi vi daremo comunicazione. E quindi evidentemente chi oggi lancia questo percorso si porrà il problema del rapporto con il governo e di come portere a casa dei risultati che già in passato abbiamo messo sul piatto. Ne dico solo uno che è il reddito minimo di cittadinanza. Speriamo e pensiamo che il governo regionale debba su questa azione investire perché lo rimanda da tempo e sicuramente sarà oggetto di discussione del nostro congresso. Questo come altri temi come la sanità e una serie di altre questioni che appunto stanno al prossimo futuro.